C'è una regola aurea in fotografia, non puoi fotografare una cosa se non riesci a metterla a fuoco. Oggi siamo qui con una mirrorless, nello specifico è Canon EOS R, e andremo a vedere quali sono le opzioni di messa a fuoco di questa camera per completare il ciclo sulla messa a fuoco dei nostri dispositivi fotografici. C'è già un video pubblicato sul canale in cui vi parlo della messa a fuoco per le fotocamere reflex, andatevelo a ripescare perché alcune cose sono uniche, le ho già dette in quel video e magari non vado a ripeterle. Oggi parliamo nello specifico di messa a fuoco per i sistemi mirrorless. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, sono un fotografo, e oggi vado a spiegarvi quali sono le impostazioni che a me piace utilizzare su Canon EOS R e un pochettino su tutte le mirrorless che utilizzo per rendere efficiente la mia messa a fuoco. Quindi non esiste un'impostazione magica che vada bene sempre, andrò di volta in volta a utilizzare impostazioni diverse a seconda di quello che devo fare. Esistono diverse tipologie di messa a fuoco, infatti, che mi aiutano a mettere a fuoco nella particolare situazione in cui io mi trovo. Andremo a vedere che esiste un metodo di messa a fuoco perfetto nel momento in cui io sto facendo un headshot come quello che state vedendo voi adesso. Quindi la mia macchina andrà automaticamente a riconoscere un viso e andrà a mettere a fuoco quello. Noi possiamo dirgli di essere specifica sul viso o specifica sull'occhio addirittura. Quindi possiamo andare a customizzarla in maniera molto dettagliata per dirle esattamente quello che deve fare perché poi farà tutto lei in automatico. Oppure possiamo dire alla nostra macchina che vogliamo un singolo punto di messa a fuoco centrale e possiamo giocarcela alla vecchia maniera andando a mettere a fuoco e ricomponendo il nostro frame. Per fortuna non ci hanno tolto la possibilità di fare queste cose su Mirrorless. Prima o poi le toglieranno perché non le userà più nessuno. Ma per il momento sono molto molto contento di raccontarvi che queste possibilità esistono ancora e quindi si può ancora trattare il mezzo fotografico come tale e non è ancora diventato 100% uno smartphone gigante. Prima di cominciare ricordo a tutti quanti quelli che non fossero iscritti che possono farlo immediatamente cliccando il bottone rosso qui sotto oppure possono aspettare la fine del video per decidere se mettere un bel like e seguire comunque il canale attivando anche la campanella per non perdere le notifiche. A questo punto direi che siamo pronti per tuffarci nel menu di Canon EOS R e andare a vedere quali sono le differenze tra un sistema di messa a fuoco e l'altro e qual è quello che ci conviene usare a seconda di quello che dobbiamo fare. Molto bene ma eccoci qui con la nostra fotocamera che come detto è la nostra Canon EOS R. Ora andiamo per prima cosa ad accendere la fotocamera e andiamo ad aprire il menu. Come potete vedere questa è la sezione all'interno della quale troviamo le nostre opzioni di autofocus. Cominciamo dal principio. Come potete vedere la prima opzione in cui ci imbattiamo è AF Operation e possiamo scegliere tra One Shot e Servo. Ovviamente è proprio come sui sistemi vecchi ovvero One Shot serve se noi vogliamo andare a mettere a fuoco una volta dopodiché finché non molliamo il pulsante di messa a fuoco la nostra messa a fuoco rimarrà esattamente a quella distanza che infatti è segnata sul nostro monitor. In questo caso è circa 0.2. Nel momento in cui invece andiamo a selezionare Servo significa che il nostro punto di messa a fuoco continuerà a cambiare in relazione a quanto è distante il nostro soggetto. Infatti vedete che nel momento in cui sto andando a mettere a fuoco il punto di messa a fuoco si sposta man mano che io sposto il mio soggetto. Questa è una cosa che dobbiamo selezionare in base a quello che stiamo facendo. Io normalmente utilizzo One Shot perché faccio prevalentemente fotografie statiche. Ora come potete vedere la prima opzione riguarda il metodo di autofocus. Quest'opzione noi possiamo trovarla qui ma possiamo anche trovarla premendo questo bottone e subito dopo il pulsante opzioni che è quello in cima vicino allo shutter. Qui possiamo trovare esattamente le stesse opzioni e per quanto mi riguarda è più comodo così perché in questo modo non dobbiamo tornare in quel menu ma possiamo aprire questa schermata in qualunque punto ci troviamo. Ora vediamo queste opzioni una per una. La prima è tracking più faccina. Questo fondamentalmente è un tracking che dà una priorità al volto umano. Quindi se ci sono dei volti umani, dei volti di persone all'interno della nostra ripresa la fotocamera tenderà a mettere a fuoco questi ultimi. Se ci sono degli oggetti che coprono il volto oppure se non ci sono volti, se non ci sono persone la priorità verrà data a quello che si trova più vicino alla nostra fotocamera. La seconda opzione che troviamo è il nostro singolo punto di messa a fuoco quindi molto molto semplice, lo conosciamo già. Il punto di messa a fuoco si presenta così quindi noi possiamo andare a mettere a fuoco in punti diversi semplicemente con il nostro dito. Se abbiamo messo a fuoco in un punto che non è più centrale e vogliamo tornare esattamente al centro basta che premiamo il bottone cestino della spazzatura e riportiamo il nostro punto di messa a fuoco al punto iniziale. La prossima opzione è punto di messa a fuoco centrale espanso. Questo qui funziona esattamente nello stesso modo. Possiamo spostarlo solamente che ha quattro puntini intorno che ci aiutano a mettere a fuoco con più precisione. Quindi se abbiamo qualcosa che si muove e vogliamo mettere a fuoco in un'area più ampia utilizziamo questa funzione. Abbiamo anche la possibilità di usare l'area espansa. In questo caso, come potete vedere, abbiamo un sacco di punti tutto intorno al nostro punto di messa a fuoco. Questo ci aiuta moltissimo se stiamo cercando di seguire qualcosa di sfuggente, qualcosa che si muove all'interno del nostro frame. Quindi vogliamo un aiutino dalla fotocamera per cercare di beccare quello che stiamo cercando di mettere a fuoco. Le ultime tre opzioni, io non le uso praticamente mai, sono le zone. In questo caso, vedete, abbiamo una zona che possiamo spostare e quindi daremo prevalenza a questa zona all'interno del nostro fotogramma. Ovviamente all'interno di una zona verrà data prevalenza al volto, proprio come prima. Quindi noi possiamo impostare una zona randomica oppure possiamo impostare una zona verticale. Questo può essere utile se sappiamo già che cropperemo in verticale la nostra ripresa. Oppure possiamo utilizzare l'orizzontale. Questo può servire magari se stiamo riprendendo, se dobbiamo tenere a fuoco qualcosa che si muove nella parte superiore o inferiore. Anche qui verrà data prevalenza ai volti piuttosto che agli altri oggetti presenti in ripresa. Ora noi selezioniamo nuovamente il nostro tracking con il viso perché voglio farvi vedere che qui è possibile andare a attivare o disattivare l'eye detection. Io lo tengo attivato. Questa cosa si può fare anche da qui. Nel momento in cui sono in questa schermata io posso con il bottone info, vedete, se io premo il bottone info passo da focus sul viso a focus sull'occhio. Questa è una cosa interessante perché qualora io mi trovassi per esempio anche sul singolo punto di messa a fuoco, potrei andare col bottone info a passare tra punto di messa a fuoco grande o piccolo. Questo è molto molto comodo perché a seconda di quello che vogliamo fare potrebbe servirci di switchare velocemente tra queste due opzioni. Touch and drag AF settings. Questa è una cosa molto interessante. In questo caso io lo sto tenendo attivo e la posizione è relativa. Io ho impostato l'area come intero fotogramma. Ora che cosa fa quest'opzione? Fondamentalmente ci permette di decidere su quale parte del nostro monitor vogliamo andare a poter mettere a fuoco. Quindi io ho selezionato intero pannello. Questo significa che nel momento in cui vedete il mio punto di messa a fuoco è in centro. Nel momento in cui io anche passassi a visualizzazione tramite l'oculare posso andare a selezionare un punto preciso e come potete vedere la macchina va a mettere a fuoco esattamente in quel punto. Io ho impostato l'intero pannello perché mi trovo più comodo così. Però nel caso io stessi guardando attraverso l'oculare, quindi qui ci sarebbe il mio occhio e probabilmente da questa parte ci sarebbe il mio naso, in questo caso io potrei andare a dirgli per esempio che voglio mettere a fuoco solamente nel quadratino in alto a destra. E qui la faccenda si complica perché adesso questo quadratino, torniamo al centro, questo quadratino piccolo controlla l'intero fotogramma. Per cui nel momento in cui io voglio andare a mettere a fuoco in alto a destra è semplice, ma se voglio andare a mettere fuoco in basso a destra devo premere qui. E vedete che più o meno sono riuscito ad andare a mettere a fuoco l'in basso, è più difficile da usare. È un meccanismo con cui bisogna prendere un po' la mano perché non è intuitivo. Infatti io adesso vado a rimettergli l'intero pannello che è una funzione con cui mi trovo molto meglio. Passando al secondo pannello abbiamo qualcosa di molto interessante perché abbiamo il manual focus peak settings. Questo io come potete vedere lo tengo sempre on perché tanto è una funzione che viene attivata solamente quando passiamo in manual focus. Quindi per tutto il tempo in cui io uso la fotocamera in automatico quest'opzione è ininfluente anche se lasciata on. Abbiamo un peaking che quindi andrà a evidenziarmi sul monitor le aree che sono a fuoco nel momento in cui vado a lavorare in manuale. Il livello è alto e il colore è rosso. Questo ovviamente lo posso cambiare perché se sto facendo una ripresa su un qualcosa di rosso andrò magari a selezionare un blu o un giallo per vedere meglio. L'altra cosa è la focus guide. Anche questa io la tengo on perché anche questa entra in funzione solamente quando noi andiamo a lavorare in manuale. Infatti vedete eccola qui. Questa qui è la focus guide. Vedete nel momento in cui è a fuoco mi indica in verde. Nel momento in cui non è a fuoco vedete che ci sono questi due cursori che si divaricano e quindi io so esattamente dove mi trovo con la mia messa a fuoco se sono troppo avanti o troppo indietro e così sono esattamente puntato. Nel momento in cui rimetto autofocus vedete che queste opzioni scompaiono e posso tornare a lavorare come prima. Per quanto riguarda quest'opzione continuous AF io questo lo tengo disabilitato. Nel momento in cui lo andiamo ad abilitare fondamentalmente la nostra fotocamera diventa uno smartphone. Nel senso che continua a fuocheggiare e tiene costantemente tutto a fuoco anche se non la stiamo usando. Quindi anche se la fotocamera non è in uso, anche se l'abbiamo lasciata su tre piede per allontanarci o se la stiamo tenendo al collo la macchina continuerà a cercare il punto di messa a fuoco anche se non la stiamo utilizzando. Personalmente tengo questa opzione sempre disabilitata perché non mi piace che la macchina continui a cercare il fuoco anche quando non è in uso perché consuma tantissima batteria e va anche a sollecitare continuamente i meccanismi di autofocus riducendone drasticamente la longevità. Ora su questo menu potete vedere che abbiamo tracking sensitivity, accelerazione e decelerazione e switch tra un punto di messa a fuoco e l'altro. Vi dirò che queste opzioni io non le ho mai usate perché queste sono tutti automatismi che servono per fare cose in movimento, probabilmente sport, probabilmente servono per switchare da un soggetto all'altro in maniera automatica. Io non le ho mai usate e quindi le ho lasciate come venivano di default. Però tracking sensitivity, questo significa che noi possiamo andare a dire alla macchina quanto deve essere responsiva nel momento in cui va a seguire un soggetto che stiamo tracciando. Qui possiamo andare a gestire l'accelerazione e la decelerazione del tracking, quindi nel momento in cui ci sono dei cambi di velocità. Mentre questo riguarda l'auto switching per quanto riguarda i punti di messa a fuoco, quindi nel momento in cui il nostro soggetto si sposta nella nostra griglia tra un punto di messa a fuoco e un altro, possiamo andare a dire alla macchina quanto deve essere rapida nell'andare a fare questo cambiamento. Ora, Lens Electronic Manual Focus vi dirò che non lo uso mai. EIF Assist Beam Firing è una cosa molto interessante perché fondamentalmente ci permette di decidere se vogliamo che venga sparata la luce assist sul frontale della nostra camera che vada ad aiutare nella messa a fuoco. In questo caso noi possiamo scegliere di lasciarlo attivo, ma possiamo anche metterlo off oppure possiamo metterlo led. Ovviamente nel momento in cui andiamo a metterlo off faremo più fatica a mettere a fuoco il buio. Se vogliamo la massima efficacia lo mettiamo on, mentre la modalità led serve se vogliamo eliminare incompatibilità con altri strumenti che potrebbero percepire l'assist beam come per esempio potrebbero essere degli altri flash già collegati. Nell'ultima schermata vediamo Lens Drive When AF Impossible. Ora, questa è un'opzione controversa. Nel momento in cui la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, con questa opzione le diciamo di continuare a provarci. Può non riuscire a mettere a fuoco perché non c'è luce oppure può non riuscire a mettere a fuoco perché è troppo vicina al soggetto. Con questa opzione le stiamo dicendo di continuare a provarci, mentre se le diciamo stop la macchina proverà a mettere a fuoco una volta e se non ci riesce per uno di questi motivi smetterà di provare. In questo caso io l'ho lasciato su on, non mi ricordo perché, ma lo lascerò così. Limit AF Methods. Questo serve per dire alla macchina se per esempio non vogliamo vederli tutti questi metodi di autofocus. Per esempio io vi dico molto tranquillamente che le zone a me non servono assolutamente a niente, quindi io vado a disabilitarle e questo significa che la prossima volta che andrò ad aprire le mie zone di messa a fuoco vedete, andrò a scorrere solamente tra quelle che ho selezionato, mentre le zone saranno disabilitate. Questo mi consente di essere più rapido sui metodi che mi interessano, escludendo quelli che non uso mai. Ora, l'orientamento dei punti di messa a fuoco è una cosa che può tornarci utile se scattiamo molto in verticale. Personalmente io non li uso e anzi preferisco che siano sempre uguali quando utilizzo la macchina, però c'è anche la possibilità di impostarli in maniera tale che ci diano un vantaggio e che cambino agevolandoci nel momento in cui andiamo a cambiare l'orientamento della nostra fotocamera. L'ultima opzione che andiamo a vedere è un'opzione dedicata alla modalità servo e serve in particolare a dire alla fotocamera in che maniera deve cominciare il tracking di un soggetto quando andiamo a mettere a fuoco una scena di cui la macchina ancora non sa nulla. Possiamo infatti dirgli che deve dare priorità al viso oppure possiamo dirgli che deve dare priorità ai punti di messa a fuoco. Io la lascio su automatico perché trovo che nella maggior parte dei casi faccia un ottimo lavoro capendo da sola che cosa deve andare a fare. A questo punto la nostra macchina è impostata per cui io non devo fare altro che andare a premere il pulsante autofocus e poi il pulsante funzione e a questo punto posso scegliere che metodologia di autofocus voglio utilizzare. Posso andare a decidere col tasto info se voglio utilizzare il viso oppure l'occhio e posso decidere se voglio un punto centrale piccolo o grande. A questo punto posso andare con il dito a selezionare la zona in cui voglio mettere a fuoco e fondamentalmente sono pronto per scattare. Ricordatevi sempre che se volete ritornare al centro con il punto di messa a fuoco bisogna premere il cestino della spazzatura e parimenti ricordatevi anche che se volete che la macchina faccia da sola la modalità giusta da selezionare è questa qui. Tracking più viso anche se lasciate l'occhio inserito nel momento in cui non ci sono visi all'interno della nostra immagine la macchina farà da sola e come potete vedere andrà a selezionare un ampissimo numero di punti di messa a fuoco dandoci sempre l'opzione migliore. Quindi se siete indecisi su quello che state facendo secondo me questa che è la modalità più semplice quella preimpostata e quella più automatica di tutte su una macchina come questa sulle mirrorless in generale è quella che dà i risultati migliori. Se state facendo qualcosa di particolare invece potete andare a selezionare il singolo punto di messa a fuoco potete anche andare come vedete a zoomare per vedere se state mettendo a fuoco correttamente questo qui è un metodo che ci consente di lavorare su una macchina anche moderna come questa proprio come faremmo se stessimo usando una vecchia reflex quindi questo è un metodo che a me personalmente è molto caro. Bene amici come avete potuto vedere si tratta di un sistema di messa a fuoco con un po' di opzioni ma neanche tantissime perché Canon EOS R è la prima mirrorless professionale che Canon ha buttato fuori erano un po' di fretta quando hanno fatto uscire questo modello dovevano riguadagnare terreno sugli altri competitor e quindi questa macchina è un po' carente dal punto di vista anche del menu esistono modelli successivi che hanno molte più opzioni quindi quello che vi ho fatto vedere oggi è la base sono le opzioni standard poi esistono modelli che hanno molte molte opzioni in più per esempio Canon EOS R6 R6 Mark II o R5 hanno tutta una serie di opzioni per far capire alla macchina che tipo di soggetto vogliamo tracciare esiste la possibilità di impostare veicolo persona animale moto cioè addirittura possiamo dirgli esattamente che cosa deve seguire e quindi la macchina andrà a cercare di leggere la scena e mettere a fuoco in maniera sempre più precisa esattamente quello che gli abbiamo detto che vogliamo fotografare su questa macchina non c'è ancora niente di tutto questo perché arriva sulle versioni successive però ci tenevo a fare questo video per farvi vedere proprio quelle che sono le basi senza andare nel dettaglio di cose complicate che vedremo magari in un altro video fatemi sapere in un commento se vi interessa così nel caso questo argomento riscuota interesse posso pensare di fare un altro video dedicato solamente alle opzioni particolari che in questo video abbiamo un pochino tralasciato vi chiedo anche avete fotocamere mirrorless di questo tipo come le utilizzate io come già detto tendo a utilizzare il punto di messa a fuoco centrale perché mi piace lavorare così decidere esattamente che cosa sto mettendo a fuoco e poi ricomporre sono abituato a lavorare così e non credo che ci sia qualcosa che potrà farmi cambiare idea l'unico modo in cui possono costringermi a usare gli automatismi delle mirrorless è togliendomi la possibilità di lavorare in manuale cosa che spero che non accada mai perché se mi tolgono anche questo a quel punto io la smetto di comprare macchine fotografiche e uso il cellulare e tanti saluti anche perché per allora per quanto riguarda la qualità ormai il cellulare non avrà più assolutamente niente da invidiare alle fotocamere ormai la distanza è veramente poca quindi si usano le fotocamere per poche cose mirate e una di queste è la possibilità di giocarsela alla vecchia maniera di giocarsela in maniera personale e andare a gestire manualmente tutta una serie di processi nel momento in cui viene meno questa cosa per quanto mi riguarda viene meno anche l'utilità della macchina fotografica in sé quindi spero veramente che certe cose non le tolgano mai posto che sono contento di poter scegliere perché per esempio per fare video in questo momento sto usando l'opzione automatica l'opzione con la messa a fuoco automatica sull'occhio che è fantastica funziona benissimo e sono contentissimo che ci sia semplicemente mi piace pensare di poter continuare ad avere la libertà di decidere quale dei due metodi utilizzare fatemi sapere che cosa ne pensate io vi aspetto nei commenti vi ricordo di iscrivervi al canale perché se commentate vi risponderò con dei contenuti verticali e se non volete perderveli è meglio se rimanete aggiornati cliccando anche la campanella lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che avete imparato qualcosa signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti